È uno degli aspetti, quello della cabina di regia, più importanti del patto perché oltre a prevenire e contrastare questi fenomeni è importante anche monitorare gli effetti, le azioni poste in essere e soprattutto cercare di intercettare i mutamenti nei comportamenti illegali quindi nell'eventuale manifestarsi di comportamenti illeciti. Quindi a questo servirà la cabina di regia, un plauso soprattutto all'unione di tutte le forze istituzionali in campo perché proprio dall'unione nasce la forza di questo patto e di questo condiviso rinnovo impegno verso la città di Terni.